Riconoscete la grande e bellissima Firenze dipinta a volo d'uccello? Scrivete nei commenti chi ha riconosciuto subito questa cattedrale. La sto dipingendo da una settimana. Sto finendo alcuni dipinti contemporaneamente. Ci sono dei problemi. La mia tecnica di disegno cambia continuamente. Mi torturo continuamente. Spero che possiate guardare questo disegno senza ironia. Come dire abbonatevi. I quadri sono in vendita. Mi chiamo Edward.